Abbiamo il piacere per il primo anno di ospitare a Ragusa la giornata Sportist Day che coinvolge più di 150 città d'Italia per parlare del benessere, di quanto è importante praticare benessere attraverso lo sport e facendolo attraverso lo sport all'aperto e quindi non appena Paolo Fuggetta mi ha proposto di aderire come città a questo progetto ci siamo subito ad operati coinvolgendo tantissime associazioni della nostra città che hanno poi risposto proponendo delle attività, sono tutte attività dove si possono fare delle dimostrazioni cioè a dire qualsiasi cittadino può andare là e provare la tipologia di sport, sono tantissime infatti il calendario è molto pieno dal badminton al dog trekking al basket al calcio in gabbia tante altre cose ai giochi tradizionali che verranno dipinti a piazza Tamanaco e saranno poi fruibili sempre, c'è tanto veramente da fare e tanto da provare gratuitamente attraverso le dimostrazioni quindi vi aspettiamo domenica 22 settembre per questa giornata che speriamo sia davvero unica. Stiamo lanciando questo messaggio in Italia, siamo molto contenti che in Sicilia sta andando così bene e contentissimi che Ragusa che è un'eccellenza in molti campi sta dando seguito a questa nostra attività. Noi riteniamo tre cose semplici, da un lato appunto abbiamo necessità della Repubblica del Movimento, lo sport è entrato in Costituzione ma quello è un primo passaggio, dobbiamo adesso far sì che il diritto allo sport è un diritto di tutti e proprio di tutti a prescindere dall'aspetto economico o altro, le città che diventano un oratorio laico, che diventano delle palestre consentono a tutti di poter praticare la cultura del Movimento, questo è un passaggio secondo noi decisivo per rendere appunto le città e i cittadini migliori. L'altro aspetto che ha detto prima lei in maniera molto corretta è proprio l'esigenza da un lato di far sì che si faccia lo sport perché combatte, si faccia il movimento più ancora che lo sport perché combatte la sedentarietà, una piaga sociale ed economica terribile specie nel meridione, appunto domenica dimostreremo che questo è possibile ed è facile poterlo fare e dall'altro perché come dice il Santo Padre lo sport crea aggregazione come nient'altro e questo credo sia l'altro aspetto fondamentale, ci allontana dal device e ci dà il contatto umano torna in qualche modo il concetto di squadra e di stare insieme che è specie post-Covid decisivo. Un piccolo segnale il nostro, 160 ormai di città che ci sono in tutta Italia e a Ragusa il 22, ha visto il programma, sarà una grande festa e quindi ancora una volta la Sicilia da questo punto di vista riesce a guardare avanti per bene. Vogliamo spiegare quanto sono importanti iniziative come queste per sensibilizzare tutti i cittadini dai più piccoli ai più grandi ad avvicinarsi allo sport e prima ancora, come diceva il Presidente, al movimento? Sì, beh, io come ho detto in conferenza stampa, io reputo che ci siano tre livelli in Italia per fare sport, addirittura ce n'erano solamente due, un livello alto, un professionismo e diciamo un livello basso di dilettantismo e amatoriale. Ecco, noi con Sport City Day, con la Repubblica e Movimento e con tutte le altre associazioni che stiamo aggregando intorno a questo concetto di sport uguale a salute e il concetto di sport inserito in Costituzione italiana, noi vogliamo dedicarci a quelle persone che non fanno sport, non fanno sport per vari motivi, magari ci sono ragazzi che appartengono a dei fenomeni migratori che non hanno le possibilità economiche, abbiamo delle fasce di degrado sociale, ma anche a persone che sono attive anche in una fascia d'età che va dai 50 ai 70 anni che oggi, mentre allora potevano tranquillamente pensare ad entrare in un ospizio in pensione, oggi invece sono persone attive e queste persone poche fanno sport. Molte di queste persone, spero non siano la maggior parte, ma presentano dei problemi legati all'età che avanza, quindi delle malattie che vanno da problemi metabolici a problemi di pressione, tutti questi tipi di malattie che invece di essere curate con i farmaci possono essere tranquillamente curati con lo sport.